we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi grandissime novità per quello che riguarda ovviamente il futuro di fortnite a partire dalla patch che è stata fatta anzi è in corso proprio in questo momento ma parleremo ovviamente nel video dell'argomento più caldo il backpack gratuito ore date party royale cosa fanno dove lo fanno chi lo suona prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video news e allora andiamo dentro cattivi per la prima per il primo argomento di oggi e non poteva che essere il party royale innanzitutto che cosa sta succedendo pubblicano un tweet ufficiale quelli di epi games e dicono che da qualche ora fortnite ha raggiunto i 350 milioni di utenti registrati un numero veramente astronomico un qualcosa di mai visto nella storia videoludica moderna ma forse anche un pochettino più indietro la cosa che vogliamo sapere ragazzi è che per festeggiare questo traguardo si farà una premiere nella party royale e innanzitutto vi faccio vedere mentre vi parlo sotto il video della premiere eccolo qua ovviamente ragazzi avete notato tantissime cose ci sono nuove skin abbiamo visto che nel main stage ci saranno degli artisti allora ci sono anche dei piccoli segreti che forse non abbiamo visto facciamo un attimo il punto della situazione innanzitutto chi suona beh lo vediamo anche nella sezione notizie della nostra lobby suonano in tre dead mouse steve occhi e porca miseria con lui non mi ricordo come diamine si chiama dillon francis io non sono proprio un fan di questo genere di musica ma devo dire che il concerto ad esempio di diplone come quello dei major laser mi è piaciuto quindi è quello ovviamente di travis sono davvero molto curioso di vedere vi ricordo che sono non credo che siano in diretta quindi saranno pre registrati e poi suoneranno ma se fossero in diretta e se fosse un vero dj set sarebbe tanta tanta roba andiamo avanti perché direttamente nella pagina di god lord che penso che sia mouse dead mouse c'è un post lui commenta dicendo è pronto ad andare nel party royale nel fortnite game e sarà intorno alle 9 40 easter time allora cosa succede la premiere è alle 9 easter time di venerdì però per noi in italia sarebbe sabato alle 3 del mattino e ovviamente voi mi dite mincega xyuder le ali ora te lo spiego prima vediamo un attimino la clip di dead mouse perché c'è una piccola clip anche per lui allora vale la pena dargli un'occhiata esatto molto carino come te per loro sarà l'otto maggio alle 9 di sera eastern time per noi sarà sabato mattina alle 3 del mattino però come vi stavo appunto anticipando intanto anche steve occhi pubblica sulla sua pagina ufficiale di twitter il party così come fa anche dillon francis ovviamente tutti si sponsorizzano quello che ci interessa ragazzi è appunto i regali i regali il backpack ali al neon reattive sono disponibili ragazzi per tutti quanti non è necessario alzarsi alle 3 del mattino perché ve lo faccio vedere subito ragazzi intanto stanno passando una carrellata di immagini dedicate eccole qua ragazzi allora la party royale premier ha un premio vi sto traducendo dall'inglese italiano chiunque loggerà su fortnite da venerdì 8 maggio a lunedì 11 maggio prenderà la nuova ricompensa il nuovo backpack reattivo quindi ragazzi lo prenderemo tutti a meno che qualcuno dall'otto all'11 maggio non abbia voglia di entrare su fortnite verrà dato a tutti credo che verrà dato non appena logheremo per sicurezza fate un salto anche nel party royale così vi togliete il problema le ali sono veramente meravigliose le guardiamo in questa immagine ad alta definizione sono proprio una coppia di ali vere che sono reattive alla musica quindi indossatele e andate a divertirvi nel party royale perché sarà veramente una figata incredibile e andiamo avanti ragazzi a parlare del prossimo argomento di oggi che si tratta di una particolarità notevole airhead candy allora che cosa sono le airhead candy sono delle caramelle americane in circolazione dal 7 agosto 1985 sono delle caramelle frizzantine noi le abbiamo qua in italia almeno io le ricordo quando ero ragazzino non ricordo se fossero le airhead perché vi sto parlando delle caramelle perché loro pubblicano nella loro pagina twitter siamo contenti di aver trovato un ragazzo di erbeca una persona e poi hashtag play delicious la cosa ha fatto un pochettino di curiosità perché se andiamo a parlare di una roba ieri l'altro ieri pomeriggio vi ho pubblicato anche il post su instagram è stata modificata casualmente su fortnite anche questa skin questa skin fu rilasciata no non fu mai rilasciata però fu scoperta nel una delle ultime patch del capitolo di fortnite quindi parliamo della patch 11.40 barra 11.50 10.40 1050 non fu mai resa pubblica ma nelle ore nelle prime ore del pomeriggio di due giorni fa hanno modificato la rarità da blu quindi da rara a epica e casualmente la skin si chiama proprio airhead quindi potrebbe essere qualcosa per chi non se ne ricordano li ha mai viste ragazzi eccole qua sono le caramelle della di airhead appunto distribuito ovviamente da delle compagnie a un sacco di gusti veramente veramente tanta roba sarebbe la prima collaborazione per quanto mi riguarda o per quanto mi ricordo con un prodotto che si mangia e prima di salutare prima di chiudere volevo parlarvi di un altro argomento ne abbiamo parlato anche ieri e finalmente giustizia è stata fatta face dabs è stato bannato da fortnite per cheating è già successo in altre occasioni con altri giocatori che epigames prendesse un provvedimento così importante stiamo parlando della distruzione della carriera di una persona perché come successe per non mi ricordo il nome adesso jarvis ve lo ricordate il tizio tutto ricciolino che stava lui utilizzava dei software in pubblica per line bot per fare vedere come funzionavano bannato per sempre jarvis sparito dal mondo face dabs la fatta grossa ne abbiamo visto ieri alcuni spezzoni e da in nell fncs si è qualificato in settima posizione però citando pesantemente facendo anche teaming con una persona che si chiama waffle non mi ricordo che cosa tra l'altro proprio lui risponde alle accuse visto che prenderanno provvedimenti probabilmente anche per lui sulla sua pagina ufficiale di twitter dove dice in poche parole voi siete tutti degli stupidi rivolto a tutte le persone che hanno detto in questa cosa io nelle fncs semplicemente non volevo fightare face dabs perché non sono stupido ho cercato di evitare il fight il problema è che come abbiamo visto è stato palesemente teaming perché quando si trovano faccia a faccia non si sparavano posso capire che tu non lo vuoi fightare ma face dabs ti apre quindi se vuole ti fight a lui e soprattutto c'è la grande questione del 321 che è stata fatta al pozzo dove c'era non mi ricordo il nome dell'altro giocatore praticamente c'era dabs sulla torretta del pozzo c'era waffle spostato di un 5 10 metri e dall'altra parte sull'isoletta più vicina dove di solito ci sono gli scagnozzi c'era un giocatore avversario casualmente contemporaneamente senza che l'avversario sparasse entrambi lo hanno laserato dando poi la kill a dabs quindi una cosa che veramente è stata notata non è scappata neanche a ep games che appunto deciso per il ban per sempre di dabs insomma ragazzi anche per oggi le notizie io ve le ho dette ne abbiamo viste un sacco vi ringrazio per avere guardato anche oggi il video news vi ricordo che c'è la patch da scaricare mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali noi anzi io sono proprio adesso il live su twitch ciao